600 grammi di farina, 250 grammi di mandorle, 4 ova, un pizzichino di sale, 120 grammi di burro fuso, 12 grammi di levito per dolci, 430 grammi di zucchero, andiamo a girare così. 4 pezzi, zucchero per caramellare. E adesso viene il forno a 180 gradi in 30 minuti. Grazie a tutti.